La tradizione in quel di Partusi è stata rispettata anche nel 2023. Il mondo agricolo del paese alto canavesano si è riunito nella mattinata del venerdì 8 dicembre in occasione della festa del ringraziamento, evento che richiama ogni anno gli agricoltori partusiesi al fine di far benedire i mezzi e i frutti della terra, ma anche aperta a scorrere qualche ora insieme, condividendo quello con lavoro ma anche una grande passione. Organizzata dalla Confederazione Nazionale della Col di Retti, la manifestazione si è aperta con il raduno dei trattori presso il sagrato della chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Quindi, dopo la Santa Messa, è stata la volta della benedizione e dell'altrettanto immancabile foto di rito, prima che la comitiva si spostasse per il pranzo che si è svolto poco distante, nei locali del ristorante della Bocciofila Cittadina. L'evento, che ha registrato la presenza anche dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, con in testa primo cittadino Giuseppe Damini, nell'edizione 2023 ha visto come priori il duo formato di Alberto Bertolotto e Davide Sardo, che insieme al gruppo dei coltivatori diretti di partusio hanno dato il loro importante contributo. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio